Una presenza nuova. C'è un problema di fondo che interessa tutti i cittadini e in modo particolare anche i cattolici operanti in politica. È finita la lunga stagione ideologica che abbraccia praticamente la seconda parte del secolo XX, quando erano le ideologie a scontrarsi fra di loro. C'era un nemico da battere e questo provocava unità, contrapposizione, divisione, ma in qualche modo era una forza per la militanza politica. Finite le ideologie, durante questo periodo noi abbiamo vissuto una democrazia bloccata, siamo passati con il XXI secolo alla necessità di una democrazia matura, non più bloccata, non più contrapposta tra un'ideologia e l'altra. Si tratta oggi di costruire una casa comune dove tutti possano vivere insieme, a pari dignità, con pari diritti e doveri, ma non c'è più un nemico da combattere. Allora è più difficile e ci vuole una presenza nuova. Per passare a una democrazia matura non basta fare le riforme istituzionali, che poi ci vogliono. Non basta nemmeno riformare la legge elettorale perché consenta una maggiore partecipazione responsabile dei cittadini alla elezione dei propri rappresentanti. occorre avere una relazione nuova tra il patto politico e la società civile e i cittadini, i mondi vitali. Questo dialogo si può dire che è stato interrotto dalle lotte ideologiche. Allora è importante realizzare un'area solidale, popolare, democratica, laica, che si ispiri a valori condivisi e possa radunare attorno a sé quanti credono in questi valori, che sono poi i valori della nostra Costituzione Repubblicana e sono i stessi valori della dottrina sociale della Chiesa. Sono valori laici che devono rimanere tali nella Costituzione Repubblicana che però sono aperti alla trascendenza. La sfida quindi oggi sta nel trovare una nuova forma di presenza nella società, non rimpiangendo vecchie unità partitiche che hanno fatto il loro tempo nella stagione ideologica, guardando al futuro, inventando strade nuove di partecipazione responsabile. Riusciremo a farlo. Ci vogliono delle persone capaci di coagulare il consenso, credibili, oneste e preparate, capaci di trasmettere ideali. I cattolici, con la loro fede e con la loro preparazione professionale, possono essere questo elemento coagulante di una nuova democrazia della natura.